Guardi, noi siamo bravissimi a trovare le leggi e anche a fare gli inganni. Qua si parla di una norma di quasi 80 anni fa, nel 1931, quando l'Italia era tutta un'altra cosa, e che prevedeva che dei lavoratori si potessero scambiare il posto da un'azienda all'altra, in modo consensuale con l'avallo delle aziende. Quindi se io lavoro a Milano e ho un lavoratore di Palermo che vuole venire a Milano, io posso venire a Palermo. Questa norma, purtroppo, nel periodo estivo all'AMAT è stata utilizzata in parecchi casi, noi riteniamo anche in modo abbastanza arbitrario, con passaggi che rischiano di essere fittizi. Cioè i lavoratori che erano arrivati al punto di poter andare in pensione, e quindi proprio alla vigilia della pensione, si può ritenere abbiano dichiarato, abbiano fatto finta, perché nessuno poi è andato a controllare se questi passaggi ci sono stati, che hanno detto che andavano in un'altra azienda, in virtù di questo è stata assunta al posto loro qualcuno. Ecco, noi riteniamo che ci sono stati degli abusi. E quindi come gruppo del Partito Democratico abbiamo chiesto con un'interpellanza scritta di conoscere quanti sono questi casi, se questi passaggi effettivamente ci sono stati, se l'azienda ha verificato che fossero stati fatti tutti quanti in modo abbastanza corretto, proprio per evitare che ci sia una privatizzazione dei posti di lavoro all'AMAT. Lei tra l'altro in questi giorni ha posto anche l'accento sul tema dell'ingresso nel mondo del lavoro, della trasparenza, delle regole, a cosa si riferiva in particolare? Alla vigilia delle elezioni è stato promesso ad associazioni cooperative, non si capisce bene cosa, un'assunzione nei ranghi del comune, e poi si è inventata questa storia dei guardiafuochi. Questo è in una regione che è devastata dagli incendi, noi dovremmo avere i guardiafuochi nei parchi di Palermo. Ecco, noi lì, pur rispettando il bisogno e il dolore di tantissime famiglie, noi poniamo un problema di diritti e di regole. C'è un problema drammatico che riguarda il lavoro, così come riguarda la casa, riguarda l'assistenza domiciliare. Il problema è attraverso quali regole si accede a queste cose.